Ammessi altri 15 bambini negli asili nido comunali. Il comune di Caltanissetta, attraverso la direzione settima, politiche sociali, scuola, servizi demografici, sport, cultura e turismo, ha decretato infatti, avendo la copertura finanziaria necessaria, l'ampliamento dei posti disponibili, utilizzando lo scorrimento dell'agrodatorio esistente. E dunque sono tre gli asili che potranno ospitare i nuovi ammessi che erano in lista d'attesa, cinque per ogni asilo. E per l'esattezza quello di Santa Petronilla, Colaianni in via degli orti e Pierpaolo Pasolini. È una promessa che avevamo fatto all'inizio dei primi giorni di settembre, quando abbiamo aperto i nostri quattro asili comunali ai bambini che ne avevano fatto richiesta. Allora contavamo, e questo ne abbiamo adesso la certezza, di ulteriori fondi aggiuntivi, per cui abbiamo ampliato e fatto entrare quei bambini che erano rimasti in lista d'attesa. Sono in tutto 15 che andranno a usufruire i nostri spazi degli asili comunali. Con questi ulteriori 15 bambini noi abbiamo raggiunto il nostro limite massimo degli spazi vitali, delle risorse fisiche e delle persone che lavorano lì dentro.